si va per la quinta corsa a partire in questo momento il numero otto di Josarian che prende il comando delle operazioni vicino a lui c'è il numero uno di Claudin poi Galandas, cavalli che si apprestano a percorrere la prima volta davanti alle tribune si passa in questo momento cominceranno i primi due giri di corsa completi con il numero uno di Claudin in vantaggio, poi Josarian, Galandas e quindi Depeche Cod cavalli che si portano sulla prima piegata con sempre al comando il numero uno di Claudin su Josarian e quindi Galandas poi tutti gli altri cavalli che completano anche la prima piegata, Claudin sempre leader della corsa e poi Josarian e Galandas al suo inseguimento, poi i compagni di colori, Crospey e Delissier cavalli nella retta opposta alle tribune con Claudin che continua a mantenere il comando della corsa Galandas sempre nelle prime posizioni all'esterno di tutti i Cedepche Cod saltato anche l'altra siepe, sono in tutto 13 le siepi da superare Galandas che intanto si avvicina al leader e si porta in seconda posizione si va sulla seconda piegata con Claudin ancora al comando e Galandas e Josarian in pariglia al suo seguito cavalli che vanno a completare anche la seconda piegata, si apprestano al loro secondo passaggio davanti alle tribune con Claudin sempre leader della corsa praticamente sin dal via con Galandas che si porta con decisione in seconda posizione Claudin ha un paio di lunghezze di vantaggio su Galandas, cavalli che si presentano davanti alle tribune Claudin leader, Galandas secondo, Depesco terzo, Josarian in quarta posizione all'interno c'è anche Crospey con numero due si comincia così l'ultimo giro di corsa, adesso l'andatura è decisamente ravvivata dai concorrenti con Claudin che accelera per cercare di non farsi raggiungere gli avversari ma Galandas ce l'ha sempre sotto tiro, i cavalli che vanno ad affrontare la penultima piegata del percorso con Galandas che si avvicina minaccioso al leader, seguito sempre da Josarian e poi via via tutti gli altri con Depesco all'esterno e il numero cinque di Fleshing Numbers all'interno Claudin ancora alla comando sulla retta opposta alle tribune Galandas al suo esterno, Depesco ancora più a largo per corsie interne ci sono quelli di scuderie in particolare Crossfade i cavalli che vanno a saltare ancora una siepe con Claudin che deve difendersi dall'attacco degli avversari in particolar modo Depesco che tende a passare, Galandas ne in scia, Josarian anche cavalli che vanno ad affrontare l'ultima piegata del percorso con Depesco che ha messo la retta davanti al numero uno di Claudin che rientra però all'avversario all'interno c'è sempre minaccioso, Fleshing Numbers che per corsie interne va ad impegnare Claudin Fleshing Numbers, Claudin, poi il numero quattro di Depesco quindi Josarian a largo, cavalli che vanno ad imbocare l'addirittura conclusiva con Fleshing Numbers per corsie interne che sembra preso vantaggio che potrebbe addirittura risultare decisivo a questo punto si salta ancora l'ostacolo, Fleshing Numbers ma viene attaccato e superato proprio in retta d'arrivo da Josarian Josarian Fleshing Numbers e poi il numero tre di Delissier così al traguardo con il numero otto di Josarian che precede il numero cinque di Fleshing Numbers il tre di Delissier, corsa combattuta specie nell'ultimo giro con Fleshing Numbers che per corsie interne ha recuperato posizioni su posizioni per poi attaccare deciso il leader Claudin ma non ha fatto i conti con Josarian che ha gravitato a lungo in terza posizione e poi ha messo in atto un finale davvero importante e si è imposto con assoluta pradonanza in questo premio d'autunno quindi Josarian e la monta di Girikusek al traguardo una quota addirittura incredibile perché paga addirittura 31 contro 1 al totalizzatore nazionale e quindi favoriti a gambe all'aria